Ciao a tutti ragazzi e ragazze di questo nuovo video, oggi andiamo ad iniziare la giornata numero 17 di Serie A In anticipo di venerdì c'è stata la nettissima vitrada da Roma a Firenze per 4 a 1 Serentina che anche quest'anno si dimostra e si dimostrerà una squadra che non potrà competere per i posti europei, come ho già detto nelle precedenti giornate Roma che invece può decisamente ambire a un posto nella più grande competizione europea Per quello che riguarda che è successo sabato, Udinese batte Cagliari 2 a 1, Inter batte G1 4 a 0 e la Spal vince a Torino per 2 a 1 Sconfitta molto pesante per il Cagliari che adesso tra l'altro dovrà vedersela in casa della Juventus e quindi si presumo un'altra sconfitta E quindi per il Cagliari queste tre sconfitte di fila teoricamente faranno cadere un po' le ambizioni della squadra sarda Poi vedremo cosa riuscirà a fare in questo ritorno dei campionato Udinese che ottiene tre punti molto importanti in zona salvezza Passando alla sfida di Inter G1 invece l'Inter che ha nettamente battuto la squadra Ligure Inter che quindi va in testa insieme poi alla Juventus Nella gara posterale la Spal ha fatto il colpo grosso a Torino grazie alla rete decisiva di Petagna Torino che come ho detto la stessa cosa per la Fiorentina secondo me non può ambire per un posto europeo Ma si salverà tranquillamente ma niente di che In le gare dominicali invece si giocava uno dei big match Il big match tra tante Milan nettamente vinto dalla squadra bergamasca per 5-0 Disastrosa la prova del Milan assolutamente da dimenticare Una squadra che non riesce a esprimere il suo potenziale Comunque non che sia a livelli altissimi, una squadra di medio livello Adesso difficilmente potrà ambire a un piazzamento europeo Salvo miracoli come già letto in passato Atalanta che si dimostra davvero una grande squadra con un grandissimo gioco Ha nettamente battuto la squadra per cui tifo Quindi davvero complimenti alla squadra di Bergamo Nelle gare delle 3 invece si disputavano per una Brescia e Lecce-Bologna La Bologna ha vinto per 3-2 a Lecce In maniera comunque meritata vista le tante occasioni create E i 19 vettori complessivi della squadra emiliana Lecce è stata brava a sfruttare le sue occasioni che ha avuto Ma la sconfitta è comunque meritata Bologna fa 3 punti importanti Lecce dovrà cercare di fare punti nelle prossime partite che verranno Il Brescia invece stava vincendo fino al 91esimo Invece Grassi ha pareggiato per il Parma in pieno recupero Ha evitato la sconfitta sempre per gli emiliani Per i Lombardi una vittoria sarebbe stata il modo per uscire dalla zona retrocessione Invece sono sempre lì a dover lottare e lotteranno comunque per non retrocedere Domenica sera invece si giocava a Sassuolo Napoli La Napoli che poi ha vinto per 2-1 al 94esimo Grazie a un otto gol di Obiang Napoli che stava comunque perdendo E poi è riuscito a ribaltare questa partita Altrimenti sarebbero stati già guai per Gattuso Vedremo poi il Napoli cosa riuscirà a fare in questo girone di ritorno Se riuscirà a recuperare un po' di punti alle altre squadre Questo era per quanto riguarda il campionato Adesso passiamo alla Supercoppa La Supercoppa ha vinta con merito a parlare mio dalla Lazio Che ha corso molto di più della Juventus Stessa vittoria come nel campionato per 3-1 Non è bastata la Juventus il pareggio all'interno di Dybala Peraltro comunque gol fortunato da parte della Juve Perché semplicemente su un tiro di Ronaldo Parto da Stracoscia Poi sulla respinta Dybala a porta vuota Ha segnato Ma per il resto poco da dire Lazio superiore a Bianconeri in questa partita Nel senso che la Lazio non è superiore alla Juventus A livello dei giocatori Però è più in forma a livello di fisico, di corsa E comunque sta facendo un'ottima stagione fino a questo momento Vedremo se riuscirà a mantenerla in campionato Visto che è poi uscita dall'Europa League E secondo me si vuole concentrare sul campionato Per puntare a un piazzamento Champions Bene ragazzi questo video è tutto Un like lasciatemi Se vi va, se vi è piaciuto il video E iscrivetevi al canale Perché ci saranno ovviamente tutte le altre giornate di Serie A E non soltanto Ci vediamo al prossimo video Ciao